Com'è Luigi? Se vado è un bel pesce, se vado a rotto, eh? Adesso vediamo che è qua. No, c'è ancora un po' che metto, vai. È che è un po' corto, si è corto, eh? Beh, è un po' che sei lì, eh? Eh. Eh, che pressione! Bellissimo! Vieni giù di qua, vieni giù di qua a sinistra. Metti dentro, metti dentro! Osti, osti! Non metto la marcia, non se lo stare così. Tiro anche su se vuoi adesso, eh? Vuoi anche l'altro? Sì, davvero anche l'altro, va. Ora ci facciamo. Fammelo vedere! Oh, 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 oh! Ce la fai io o ti aiuto? Dai, vai tranquillo! Fiii che ne ho! Grazie a tutti. Grazie a tutti.